Pronto? Qui è la comunità Emmaus. Questa è la stanza dei mobili dove ci sono persone che mi portano cucina mi portano figuriferi, lavabiancheria le do sempre un'altra possibilità bisogna sempre darla nella vita. Questo è il mio regno mi sono messo qui e non ne muovo più per cui avrò letto tanti di quei libri che non mi ricordo più nemmeno i titoli. Queste giornate che magari stanno che è tipo che piove è una giornata che non va bene mi fanno venire i bulli ma cinque originali vissone durante il gioco. Dai, dai, dai! Dai, dai! Dai, dai, dai! È possibile arrivare a produzione? No, abbiamo creato la mia vita durante il gioco. Sì, ci siamo Grazie.